Con Alessandro De Simone di iWonderful per presentare il film Nuevo Orden di Michel Franco in streaming sul canale iWonderful dal 15 aprile 2021. Ben trovato! E' un film molto bello, lo dico in qualità di osse come è il vino, è davvero notevole ma soprattutto siamo molto felici di averlo portato in Italia in piattaforma nel momento in cui non si sapeva ancora quando avrebbero avuto le sale e ti aver portato per inaugurare la seconda piattaforma di iWonderful.com e al contrario di iWonderful.it, fatta in collaborazione con MyMovie, si attiva da dicembre, è un canale zvog, ovvero con un abbonamento mensile, mentre invece iWonderful.it è un canale iWonderful.it dove ovvero puoi acquistare il singolo film a tuo piacimento. Per chi all'ascolto diamo qualche indicazione di trama rispetto al film? Ci tiene molto Michelle Franco a sottolineare questa cosa, che non è un'opera epistopica, perché il film è girato in un ipotesco presente nel messico contemporaneo in cui nascono delle tensioni sociali e politiche molto forti, che sfociano in terribili scontri e manifestazioni di piazza anche molto violenti. L'inizio del film si svolge in un ricevimento di matrimonio, in una elegante villa di un quattro esclusivo di città di Messico, dove a un certo punto si riversa la rivolta. Quello che succede dopo è un tour de France incredibile in un'ora e 25 minuti, oltretutto a un ritmo veramente incredibile il film di Michelle Franco, ed è una visione a molto priorità, ma anche incredibilmente realistica, di quello che potrebbe succedere un po' ovunque in questo preciso momento storico. Ed è soprattutto una visione molto realistica di quello che è il Messico contemporaneo. Di questo regista cos'altro sappiamo? E' molto amato dai festi all'internazionale, in particolare dal festival di Cannes, dove in realtà ha già vinto tre premi negli anni scorsi con i suoi precedenti, film, due premi alla sezione al soltanto regala e un premio per la sceneggiatura nel concorso principale. Michelle Franco è un regista da tenere estremamente d'occhio, nonostante appunto Valchia, questo è già il suo setto film, non è praticamente un esordiente, non fa parte di quella schiera dei messicani che hanno conquistato Hollywood, perché ha un tipo di impostazione completamente diversa, molto più realista da una parte. In realtà è un cineasta che ama moltissimo il cinema di Pirnell, è proprio del periodo mexicano, in prima istanza di Pirnell. Il regista con una visione molto personale, quasi tutti i suoi film derivano da esperienze più biografiche, e il che fa sì che siano quasi tutti i film incredibilmente intensi nelle emozioni. Lo potrete scoprire appunto con Nuovo Orden, non è detto che prossimamente non possano arrivare anche i suoi film precedenti in Italia. Ecco, di Nuovo Orden, tu personalmente cosa hai apprezzato? Michelle è scritto estremamente bene, è girato molto molto bene, ha un grandissimo montaggio, anche le interpretazioni sono eccellenti, ma soprattutto ho apprezzato il fatto che è anche un film molto cinefilo, nel senso che ci sono tutta una serie di riferimenti molto precisi a un grande cinema militante degli anni 70, il primo che viene in mente ovviamente è Costa Carras, lo dice lo stesso Michelle Franco, che gli ho fatto proprio per l'occasione dell'uscita del film e che è disponibile sui due penali I Wonderful, e soprattutto è un film terribilmente, sottolineo terribilmente attuale, è scritto con una lucidità che in alcuni momenti il cielo è sanguaglieria, perché davvero uno potrebbe aspettarsi che una cosa del genere la vede sul giornale da un momento all'altro. Visto che siamo in argomento ti chiedo un tuo parere sul futuro rapporto tra l'online e la sala? E' il futuro imminente in realtà, perché con la chiamatura delle sale, anche se sono un quasi inghiozzo, il 26 aprile di fatto molti film stanno a finire in sala finalmente, compreso Noe Holden per l'altro, così come Collective che è un'altra firma, I Wonderful Pictures che è andato direttamente sulla piattaforma, perché domenica si giocherà due Oscar durante la notte degli Oscar e quindi ci sarà il mio banco di prova reale per capire qual è il gradimento dopo oltre un anno di pandemia da parte del pubblico nei confronti del cinema a casa o del cinema in sala. Credo sarà molto importante. I dati che arrivano dagli Stati Uniti in realtà sono confortanti per entrambe le situazioni. Così la versus Congress che in Italia uscirà il 6 maggio e dovrebbe uscire a questo punto in entrambe le fruizioni. Negli Stati Uniti ha incassato oltre 80 milioni di dollari ed era uscito in contemporanea su HBO Max, la piattaforma sterile della Warner Bros. quindi sarà molto interessante vedere quello che succede. Proprio il 26 uscirà con Academy 2 Minari, anche questo film pluricannizzato all'Oscar, che però poi sarà su Sky appena una settimana dopo o poco più. Quindi bisogna capire banalmente dagli incassi e anche dalla sicurezza che il pubblico si sente di poter avere nella frutta della sala in questo momento. Nuovo Orden di Michel Franco in streaming sul canale Wonderful da giovedì 15 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro De Simone. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie.